Siamo gli amici del mulino! Aiutare Gal e Messi sulla riva del fiume! È una missione del mulino! Andiamo! Aspettate! Veniamo anche noi! Au! Che succede, Gal? Dobbiamo raggiungere l'altra riva! Ma la canoa è piccola per tutti! Esatto! Vediamo, non si può lasciare il gatto con la gallina da soli! E neanche i semi con la gallina! Gal! Messi! Vi aiutiamo noi! E adesso sotto la direzione di Tino! E sacco di semi svalirà! Ta-da! È ora di tornare ai nostri allenamenti! E ci sono i nostri allenamenti! E ci sono i nostri allenamenti!